La Confartigianato di Cesena è contraria all'idea del Ministero del Lavoro di istituire una patente a punti per le imprese edili. La misura servirebbe per gestire la qualificazione delle imprese di costruzioni. Secondo Confartigianato, il meccanismo della patente a punti previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro si presta ad alterare il libero mercato nel settore delle costruzioni, favorendo i grandi general contractors a svantaggio delle piccole imprese. Con la patente a punti non si aumentano i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, afferma il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena, ma si duplicano onere ed addempimenti amministrativi rispetto a quelli già esistenti. Il governo deve porre attenzione alle piccole imprese e alla sicurezza sul lavoro, sottolinea il gruppo di presidenza della Confartigianato Cesenate, sta a cuore, dicono noi piccoli imprenditori, per primi non si tutela con la burocrazia ma con il rispetto di regole che devono essere chiare ed applicabili con gli organismi paritetici, con la formazione e con l'applicazione corretta dei contratti nazionali di lavoro del settore, attraverso l'associazionismo di impresa che diffonde la cultura della legalità, incrociando poi le tante banche dati esistenti per attuare un efficace piano nazionale della prevenzione con un sistema di ispezione sul lavoro rafforzato e senza inutili duplicazioni di competenze.